Maria grazia grazie grazie Davide avete detto tutto voi io potrei anche andarmene però vorrei iniziare a parlare di quello che faccio ma di quello che fate anche voi ogni giorno quando usate la scrittura e inizio con una provocazione perché il tema è la parola ma quanto abusiamo delle parole e qui vediamo un esempio Elon Musk su Twitter che dice dovete ascoltare l'Iliade di Omero con un audiobook quindi non leggendola perché doveva essere ascoltata e non letta questa è una questione un po controversa perché la scrittura quando Omero compone inventa l'Iliade dell'Odissea c'era già e c'era già nella forma alfabetica di greco e noi sappiamo che nella stessa area geografica nella Grecia continentale c'era prima un sistema di scrittura di cui parlerò fra pochissimo che si chiama lineare B che è stato uno dei sistemi di scrittura che è stato decifrato nel secolo scorso e uno dei pochi sistemi di scrittura che hanno subito in maniera molto felice e efficiente una decifrazione quindi quello che dice Elon Musk non solo è sbagliato ma è anche abbastanza fuori contesto è vero che nel periodo dell'età del bronzo quando le radici dell'Iliade dell'Odissea hanno avuto il loro primo input il loro primo trampolino di lancio l'Iliade dell'Odissea le saghe le rime i versi di Omero venivano recitati non erano necessariamente scritti sono stati scritti nel primo millennio nel settimo secolo del primo millennio ma in realtà siamo già di fronte a un contesto in cui la scrittura esiste esiste nel Mediterraneo orientale del secondo millennio avanti Cristo viene usato il cuneiforme tantissimo quindi esiste la possibilità che ci fosse una traiettoria recitativa di celebrazione del verso attraverso banchetti e cose del genere ma in realtà forse 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 i germi di una scrittura c'erano già forse non era una scrittura che riusciamo a vedere nel contesto dei reperti archeologici ma dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole soprattutto le parole che vengono scritte per la prima volta e grazie Maria grazia scusate il bisticcio sono già stati citati libri che ho scritto non voglio fare pubblicità anzi via tutta questa cosa perché vi voglio parlare della ricerca intorno all'origine all'invenzione della scrittura qualcosa che noi usiamo ogni giorno che reinventiamo ogni giorno con tutta la pesantezza che la scrittura porta con sé come scheletro di comunicazione ma è qualcosa la sua invenzione qualcosa di ancora relegato in aloni di mistero quante volte è stata inventata la scrittura da chi come attraverso quali meccanismi linguistici e perché così tardi nella nostra evoluzione culturale e questa è una delle domande delle grandi domande che il progetto del quale sono a capo vuole vuole sondare sulla quale vogliamo gettare luce vogliamo gettare luce attraverso traiettorie di studio e di analisi e di ricerca come diceva Maria grazia assolutamente interdisciplinari perché si pensa che la scrittura sia veicolo per la lingua che sia uno strumento che registri la lingua la nostra capacità di linguaggio e una specifica lingua che sia l'italiano l'inglese e il francese non ha importanza ma in realtà è un filtro dal quale noi cerchiamo di capire mettere ordine nel mondo intorno a noi non è solo uno strumento linguistico è uno strumento altamente cognitivo che significa perché i segni delle scritture hanno le forme che hanno e questa è una cosa che a me totalmente ossessiona perché selezioniamo delle forme e non altre che ruolo gioca il nostro cervello in questo tipo di selezione ed è una selezione selettiva adattativa scomodiamo anche Darwin c'è una traiettoria che secondo me è ancora molto lacunosa che è quella di riuscire a capire come mai le scritture sono come sono nella nostra lunga evoluzione culturale e perché sono arrivate così tardi e chi l'ha inventata in quali contesti entra il concetto di necessità legato all'invenzione noi inventiamo una cosa perché prima non c'era e queste sono tutte domande sulle quali magari possiamo soffermarci con grande interesse perché quanto noi diamo per scontato questo strumento dagli emoji che utilizziamo ogni giorno i messaggini che mandiamo siamo la società più intensivamente dedicata all'idea di trasmetterla attraverso la scrittura la scrittura è pervasiva l'abbiamo dappertutto la utilizziamo in maniera assolutamente massiva intensiva forse già qui ci sono i germi della sua fine ma torniamo a noi le traiettorie linguistiche come il segno diventa suono anche questa è una cosa sulla quale gli studi sono ancora abbastanza indietro in quali contesti quindi l'archeologia la storia c'è bisogno della città per l'invenzione della scrittura e questa è una cosa che io contesto tantissimo ma di nuovo la ricerca è molto dibattuta città urbanizzazione significa controllo sul territorio sulle genti ergo necessità esigenza di invenzione di una cosa che sia capace di fare quella cosa lì di controllare di gestire di rendicontare la burocrazia l'amministrazione anche qui ci sarebbe tantissimo da dire non mi posso soffermare tanto su questo ma da un punto di vista archeologico antropologico una grandissima domanda la scrittura nasce per il controllo la penna è più potente della spada e quante volte lo si sente dire e poi tantissime cose che sulla sull'invenzione della scrittura e sullo stato dell'arte rispetto alle scritture che ancora non sono state decifrate ne parleremo ci sono le nuove tecnologie ma perché non le usa nessuno allora ho deciso di farlo io con un gruppo di ricerca abbastanza nutrito di scienziati informatici di persone che si occupano delle cosiddette digital humanities e poi vi faccio vedere esempi di come applichiamo le più avanzate traiettorie metodi e strategie per rendere visivamente fruibili le immagini le iscrizioni e i testi antichi soprattutto quelli indecifrati e di recente ho deciso di applicare vi farò vedere degli esempi anche la intelligenza artificiale alla decifrazione alle traiettorie di decifrazione dei sistemi di scrittura ancora indecifrati quindi tante cose tante grandi domande perché come se io vi chiedo dove è stata non guardate la slide guardate me dove è stata inventata chi ha inventato la scrittura domanda per voi potete rispondere alzando la mano non mi piacciono tanto le lezioni ex cathedra mi piace l'interazione serena dai chi ha inventato la scrittura i babilonesi chi è che è d'accordo con serena forza mani alzate ma solo i babilonesi quello che vi hanno raccontato perché nei libri di scuola delle medie delle elementari e in una certa misura anche al liceo quello che ci raccontano è che sono stati in mesopotamia la mesopotamia è stato il primo inventore della scrittura circa 5 mila anni fa con il sistema cuneiforme che in realtà ai suoi inizi non era assolutamente cuneiforme era iconico iconografico rappresentava delle figure poi piano piano si è stilizzato si è stretto si è estratto sempre di più verso l'idea di un sistema più lineare meno iconico quindi la mesopotamia del quarto millennio avanti cristo si è vero inventa la scrittura ma non è l'unica ormai sempre di più siamo sicuri che anche l'egitto in un periodo contemporaneo a quello degli assiro babilonesi dei sumeri dovremmo dire perché gli assiro babilonesi intervengono un po' dopo dei sumeri anche l'egitto inventa la scrittura in maniera totalmente indipendente cosa significa senza nessun tipo di trasmissione da parte dei sumeri inventa da zero un'invenzione originale vuol dire che il cervello degli egiziani di allora nel quarto millennio avanti cristo è arrivato a questo grande successo e idem alla fine del secondo millennio avanti cristo quindi circa 4 mila anni fa in cina dove non c'erano contatti in quel periodo con culture preesistenti sumeri e gli egiziani di quel periodo secondo millennio avanti cristo che potessero aver dato l'input il trampolino di lancio l'idea di scrittura anche ai cinesi anche perché il sistema di scrittura cinese è completamente diverso rispetto a quello egiziano e rispetto a quello protocuneiforme della mesopotamia anche il sistema egiziano è diversissimo anche nel suo meccanismo linguistico rispetto a quello della mesopotamia e poi grazie alla decifrazione sono cose recenti la decifrazione negli anni 70 del maia si è arrivato a capire che anche in meso america nell'america centrale il messico di oggi era stata inventata una scrittura da zero ovviamente da zero non ci potevano essere contatti non c'erano contatti in quel periodo fra l'asia l'europa e il meso america l'america di allora e siamo nel primo millennio avanti cristo quindi il maia è assolutamente incontrovertibilmente un'invenzione della scrittura da zero quattro volte e la nostra visione che non è così mono come era 40 anni fa è completamente cambiata i libri di scuola dovrebbero essere cambiati sulla base di quello che la ricerca fa oggi e invece la vostra visione se ho capito bene anche se le mani non erano tantissime alzate il manuali ci parlano ancora di questa visione potremmo dire monogenetica mamma mia come non funziona come non funziona e pensateci l'essere umano di 5.000 anni fa non aveva un cervello diverso più avanzato in questi luoghi rispetto ad altri non esiste un'idea di superiorità legata a questa creazione però noi vediamo questi quattro esempi sono quattro allora la domanda è ma se siamo arrivati a inventare la scrittura da zero senza nessun input dall'esterno quattro volte forse ci sono degli altri casi che non stiamo considerando e questi due casi il sistema di scrittura della valle dell'indo del quarto millennio avanti cristo il sistema di scrittura dell'isola di pasqua del circa 1700 dopo cristo sono due sistemi di scrittura ancora indecifrati il che significa che non sappiamo che lingua venisse registrata da queste scritture ok non conosciamo la lingua non riusciamo a identificarla non riusciamo a ricostruirla eppure i sistemi di scrittura creati lì sembrano hanno tutti i germi hanno tutti gli ingredienti della ricetta dell'innovazione dell'invenzione della creazione da zero e allora dobbiamo forse ridisegnare la nostra visione di che cosa fa l'uomo la donna gli esseri umani nella loro evoluzione culturale che arrivano ben più di una volta e forse più di quattro volte all'invenzione della scrittura non mi dilungo tantissimo su questo perché ho tante cose da dire e vi chiedo un po di pazienza perché alcune cose sono abbastanza tecniche quindi dovrò entrare e dare una carrellata e lasciare le questioni ma poi magari possiamo svilupparle nelle domande ma io sono ossessionata dal sistema del di scrittura dell'isola di pasqua che si chiama rongo rongo che significa recitare ripensiamo all'iliad eppure viene scritto viene scritto su 27 tavolette di legno scritte fittissimamente siamo circa nel 1700 dopo cristo in realtà noi abbiamo deciso col gruppo di ricerca di datare queste tavolette ne abbiamo datate alcune e alcune di queste sono ancora più antiche antedatano l'arrivo degli europei sull'isola gli europei sull'isola sono arrivati nel 1722 poi hanno colonizzato ma se è vero che il legno di queste tavolette molto più antico forse qui si tratta abbiamo di fronte quasi in maniera incontrovertibile però insomma poi possiamo anche sviluppare la questione perché è complessa la quinta invenzione della scrittura da zero in un posto che più recesso e più isolato di così l'isola di pasqua è a 3600 chilometri dalla costa del cile cioè più isolata di così non esiste e inventano la scrittura in maniera isolata in maniera totalmente relegata e il rongo rongo dell'isola di pasqua fa parte di un gruppo di scritture che io sto studiando in decifrate appunto non ne conosciamo la lingua ce ne sono circa una dozzina io mi sono concentrata nei miei studi ormai ventennali sui sistemi di scrittura delle geo del secondo millennio avanti cristo quindi geroglifico cretese e la linea area di creta e il cipromino ecco di cipro siamo nel secondo millennio avanti cristo circa 3500 anni fa sono tre sistemi di scrittura che vengono sviluppati su isole un'altra mia ossessione perché l'isola fa sempre delle cose diverse dal continente non lo sappiamo ma questi sistemi di scrittura sono quelle che in gergo tecnico che si chiamano small data sono registrate su pochissime iscrizioni quindi pensate quanto sia difficile provare a decifrare queste iscrizioni che sono così limitate nel numero di testi e nel numero di parole la parola scritta che sono registrate su questi su questi oggetti quindi completamente difficile una questione quasi per alcuni studiosi quasi insolubile ma noi abbiamo applicato anche delle strategie di decifrazione attraverso l'intelligenza artificiale siamo arrivati a dei risultati molto carini di cui vi parlerò ma in maniera molto semplice e come dire stringata parte di questa famiglia delle lingue e scritture ege del secondo millennio avanti cristo è il famosissimo chissà cos'è questo disco di festo perché non è decifrato il disco di festo ci può arrivare anche mio nipote di sette anni nonostante mi arrivino email ogni settimana che sostengono e dichiarano di aver decifrato è impossibile decifrare questo sistema di scrittura perché sono 244 segni scritti sulle due facce del disco è un disco di 20 centimetri di diametro con 244 segni io non faccio niente cioè non posso applicare il metodo scientifico un sistema di validazione di qualsiasi tipo di ipotesi questo è totalmente indecifrabile perché è un unicum è un unicum che si discosta dal sistema di scrittura geroglifico cretese del quale è coevo è contemporaneo siamo nel secondo millennio all'inizio del secondo millennio avanti cristo è un unicum che non ha nulla a che vedere col geroglifico cretese con la linea a né tanto meno col cipro minoico è altamente iconico a dei segni che sono molto figurativi cosa che nel sistema di scrittura per esempio della lineare a lo dice la parola stessa lineare non abbiamo questa insistenza sulle configurazioni iconografiche quindi sulle figure non si può fare nulla con il disco di festo punto ok quindi non scrivetemi più decifra no non si può fare nulla mentre si è fatto e si è fatto bene con la lineare b che è stata decifrata nel 1952 e però guardate sono più di 8000 tavolette rispetto alle 300 del geroglifico cretese c'è una distanza notevole per quanto riguarda un come dire un assessment un'analisi quantitativa dei testi ma la lineare b è stata decifrata da un architetto britannico il che mi mette un po di vergogna perché io provo a decifrare poi arriva l'architetto e decifra 1952 ed è stato l'unico esempio di decifrazione senza il supporto di testi bilingue se vi viene in mente la stella di rosetta la stella di rosetta non solo è bilingue ma anche trigrafica cioè ci sono tre sistemi di scrittura diversi che hanno aiutato all'applicazione hanno aiutato per l'applicazione del metodo scientifico cioè hanno validato l'ipotesi lui riesce michael ventris il nostro architetto inglese riesce attraverso un'analisi statistica riesce a decifrare la lineare b e trova il primo sistema di scrittura greco che registra un dialetto greco che è antedata il greco dell'iliade dell'odissea per di 500 anni circa ok ed è un sistema non alfabetico è un sistema sillabico il che significa che ogni sillaba ogni segno è una sillaba e ogni sillaba ha un suono specifico ma ba ta pa eccetera eccetera quindi riesce a validare il sistema attraverso uno studio interno statistico dei testi non entro nel merito perché delle tecniche che sono state utilizzate del metodo di decifrazione perché è altamente complicato e complesso e quando faccio questa domanda ai miei studenti la cannano sempre cioè il grande classico spiegami la decifrazione della lineare b e perché tutto questo è importante perché è importante decifrare quello che vedete qua se voi puntate il vostro telefonino verso il qr code riuscirete a vedere quello che siamo riusciti a fare se va questo con alcuni testi del geroglifico cretese della linea rea del cipro minoico abbiamo creato dei sistemi delle dei modelli tridimensionali delle iscrizioni che ci permettono di vedere i segni perfettamente e non solo perfettamente sono meglio dell'oggetto fisico nelle nostre mani perché possiamo giocarci perché possiamo cambiare i colori cambiare l'orientamento ingrandire riuscire a vedere perfettamente il segno perché il segno è quello che ci dice che parola è stata scritta come è stata scritta per quale motivo quali sono le gli scopi i contesti che rendono possibile l'invenzione della scrittura ovunque la scrittura venga utilizzata anche se non è inventata da zero perché i sistemi del secondo millennio avanti cristo non sono inventati da zero derivano chiaramente da un input che probabilmente è l'egiziano del terzo millennio probabilmente l'egiziano che ha dato l'imprinting che ha dato l'idea vaga del concetto di scrittura che poi i cretesi hanno preso di peso e l'hanno esportata anche a cipro e perché è importante decifrare beh in realtà perché noi non conosciamo le origini delle prime scritture europee queste sono le prime scritture in europa e non sappiamo che lingua venisse parlata allora e allora per me riuscire a capire quali sono le nostre radici anche linguistiche è fondamentale e dovrebbe essere fondamentale per ognuno di noi anche se il concetto di europa è un concetto moderno ma andiamo noi che parliamo della cultura classica come qualcosa di così sofisticato e raffinato andiamo ancora indietro nel tempo per riuscire a capire quali sono i livelli di raffinatezza di creazione sofisticata di utilizzo esteso di comprensione del prestigio di che cosa potesse fare la scrittura allora per le genti popoli di creta di cipro della grecia continentale è fondamentale e allora cosa abbiamo fatto beh insomma la linea rea è difficile da decifrare non posso ammettere di aver decifrato un bel nulla della linea rea ma in sei mesi siamo riusciti invece a decifrare i valori delle frazioni del sistema numerale della linea rea cosa vuol dire che fino per 120 anni fino a un paio di anni fa non si sapeva quali fossero i segnetti quali fossero i valori di alcuni segni che troviamo nei testi di linea rea testi di linea rea venivano utilizzati per la rendicontazione economica dei grandi palazzi del secondo millennio quindi usavano tantissimo i numeri e usavano tantissimo anche le frazioni perché misuravano le loro merci le loro derrate di produzione in maniera molto accurata e precisa però i valori delle frazioni non erano chiari un mezzo un quarto un ottavo un sedicesimo eccetera e noi abbiamo fatto una piccola rivoluzione anzi devo dire non l'ho fatta io l'ha fatta più il mio gruppo di ricerca gli ho detto qui c'è un problema insoluto da 120 anni vi do sei mesi andate e nel momento in cui io mi sono tolta dall'equazione scusate il riferimento matematico ma mi sono tolta dall'equazione gli ho lasciati liberi bam sono arrivati con la decifrazione ed è stato veramente una cosa che abbiamo salutato con grande gioia perché siamo finiti su tutti i giornali ma questi sono dettagli quindi noi abbiamo fatto questo e poi una un'altra delle mie piccole ossessioni il cipro minoico altro sistema derivato dalla linea area minoico perché viene dai palazzi minoici che usavano la linea area siamo riusciti a risolvere un grosso problema perché non sappiamo che lingua parlassero i ciprioti del secondo millennio avanti cristo probabilmente era una lingua locale che non ha nulla a che vedere con nient'altro forse isolata e siamo abbiamo messo insieme tutti i testi li abbiamo studiati e abbiamo applicato l'intelligenza artificiale per risolvere un problemone perché cipro minoico fino ad adesso era stato considerato come un sistema di scrittura da dividere in tre sistemi di scrittura cioè non un sistema di scrittura unico ma tre diversi che registravano tre lingue diverse ok quindi tre sistemi per tre lingue sono meno di 300 testi mio sospetto era mi pare un po' strano 300 testi che registrino tre lingue diverse ma perché solo perché appaiono così diversi segni però se lo dice silvia ferrara lo scrive nei suoi libri magari non è potrebbe essere apodittico no è una analisi soggettiva allora ho detto va bene mettiamoci in mezzo i computer che dovrebbero darci una risposta più neutrale più obiettiva più distaccata perché il mio era un sospetto quasi impressionistico solo perché segni sembrano diversi non vuol dire che siano diversi in realtà la che posso fare io diversa dalla a di maria grazia ma sempre pur sempre è una a ok quindi quando c'è di mezzo la mano di qualcuno c'è sempre questo tipo no di pregiudizievole su una modificazione anche minima e che cosa abbiamo fatto abbiamo applicato i cosiddetti neural networks che sono faccio brevissima è molto semplice sono sistemi non supervisionati cioè io non do nessun input al computer gli dico questi sono i miei testi te li metto digitalmente su quello che noi chiamiamo uno scatter plot che è esattamente questa visualizzazione e mettimi insieme le cose simili il computer è riuscito a mettermi insieme i segni simili che vanno contro la divisione in tre sistemi di scrittura c'è un sistema di scrittura solo il ciprominoico non sono tre perché il computer in maniera automatica ci abbiamo lavorato un anno e mezzo quindi automatico è un aggettivo che dà un'idea di istantanea e spontanea ri ordinamento dei dati no il computer ci ha impiegato tantissimo ma è riuscito a mettere insieme testi che in realtà erano stati divisi erano stati considerati come appartenenti a sistemi sotto sistemi di ciprominoico diversi quindi è un sistema di scrittura unico il mio sospetto è che possa essere una lingua registrata unica però questo lo stiamo cercando di dimostrare ora ma non è una cosa semplicissima da dimostrare anche perché io non voglio avere una posizione pregiudizievole rispetto a questo sono i dati che mi devono dire se si tratti di una lingua sola non lo devo dire io perché ho il sospetto che sia così quindi non devo informare le strategie di decifrazione che applico perché creo una pregiudizievole che creo quello che in inglese si chiama un bias ma ormai lo usiamo un termine che usiamo anche noi è come se io dirigessi la questione non si deve fare bisogna essere distaccati ma torniamo al nostro concetto di invenzione perché queste sono scritture indecifrate vanno studiate bisogna riuscire a individuare che lingua registrino ma non sono sistemi inventati da zero e nella mia ossessione rispetto all'idea del perché del per come si inventi una cosa ho iniziato a pensare come vi dicevo prima tutto l'assetto cognitivo delle scritture inventate da zero perché i segni hanno le forme che hanno cosa ci porta a selezionare alcune cose alcune icone e cosa invece ci fa escludere delle altre icone come mai è arrivata così tardi la scrittura nella nostra evoluzione culturale il sapiens parla da circa 200 mila anni anche questo è controverso c'è chi dice 150 mila c'è chi dice 85 mila è immateriale alla nostra discussione ma se la scrittura è stata inventata la prima volta 5 mila anni fa sono 145 mila anni di assenza di comunicazione scritta cosa succede perché a un certo punto bam vengono inventate e perché avviene così tardi ed è una questione che ha molto a che fare come vi dicevo prima con il nostro cervello perché il nostro cervello riesce a leggere se conosciamo il sistema di scrittura le scritture che vedete a destra della slide perché il nostro la nostra retina trova indecifrabile quel qr code che vedete lì in mezzo cos'è che rende fruibili dal nostro cervello quei segni e non quello e qui bisogna fare una mini lezione di neuroscienza ve la risparmio no tutte le prime scritture inventate da zero si basano su icone tutte mesopotamia geroglifico egiziano cinese maya nascono dal disegno a un certo punto il disegno viene incanalato incorporato in un codice che noi chiamiamo scrittura per registrare una lingua specifica che sia il cinese arcaico che sia l'egiziano antico che sia il maya o che sia il cuneiforme assiro babilonese il sumero ma tutto nasce da questi disegni e non solo le scritture non inventate da zero quelle ricreate sulla base dell'imprinting di un'altra scrittura quelle che sono il risultato di una diffusione culturale hanno lo stesso tipo nel mondo antico di sviluppo le configurazioni sono altamente iconiche nascono anche queste dal disegno il geroglifico cretese nasce dal disegno il geroglifico anatolico nasce dal disegno il nahuatl delle aztechi nasce dal disegno anche quando la scrittura non è inventata c'è questa cosa del disegno però non tutti i disegni diventano scrittura non tutti i disegni non tutte le icone vengono incanalate in un sistema codificato che noi chiamiamo scrittura che cosa succede che cosa succede nel nostro cervello quando inventiamo una cosa perché le scritture sono fatte come sono fatte riguardatele hanno tutte delle linee tutte hanno delle linee questa è una cosa che è una preferenza per il nostro occhio pazzesca non vi faccio vedere questo video perché non ho tempo ma gli studi neurologici sulla nostra percezione visiva sono molto recenti due fisiologi hubel e weisel ricevono il premio nobel nel 1983 per aver capito come il nostro occhio percepisce gli oggetti intorno a noi e i segni intorno a noi sono 40 anni stiamo parlando di una cosa veramente dell'altro ieri e come lo fanno lo fanno come succede per tantissime scoperte e per tantissime invenzioni avviene quasi per caso hubel e weisel si mettono a studiare la retina e la percezione visiva dei gattini e fare esperimenti sui gatti è una cosa particolarmente complicata ma si rendono conto che questi gatti non hanno nessun tipo di attivazione neuronale quando vengono proiettati sullo schermo su uno schermo dei blob delle macchie delle macchie intere con del colore intero gattini zero retina completamente encefalogramma felino totalmente piatto e poi quasi per caso tolgono il vetrino dal microscopio e questo vetrino crea una linea non fa niente non vi faccio vedere il video ma lo mimo crea una linea che viene proiettata e lì il gattino si attiva il neurone del gattino nel momento in cui vede la linea si attiva vengono fatti esperimenti sugli esseri umani succede la stessa cosa noi siamo ossessionati dalle linee intorno a noi è così che riconosciamo tutti gli oggetti guardate giratevi guardate la tenda guardate la configurazione delle delle tende intorno a voi seguono sempre le stesse regole e questa cosa si applica anche ai sistemi di scrittura i sistemi di scrittura non hanno i segni non hanno un interno l'interno la ma la macchia intera per noi non ha nessun tipo di cosa interessante da un punto di vista neurologico cognitivo a noi interessano i bordi sono i bordi che fanno la differenza sono i bordi che ci servono non solo a identificare gli oggetti intorno a noi a muoverci a darci la prospettiva a darci lo spazio e l'orientamento ma anche per le facce noi dopo due mesi dalla nascita siamo già in grado di riconoscere facce diverse perché sono fatte di linee diverse e questi studi sono stati fondamentali non guardate la slide guardate me tutto complicato perché perché di recentissimo è stato scoperto che esiste un'area specifica del nostro cervello che è dedicata e adibita proprio a questo al riconoscimento degli oggetti intorno a noi e che quando quest'area nella nostra evoluzione culturale si è abituata a riconoscere i segni delle scritture quest'area è stata riutilizzata riciclata dal riconoscimento degli oggetti al riconoscimento dei bordi dei segni e questo fa sì che noi abbiamo un'area super dedicata per la lettura questo fa sì che siamo in grado in un millisecondo di riconoscere i segni su un libro di riconoscere tutti gli oggetti intorno a noi è una cosa velocissima che noi facciamo perché abbiamo imparato a leggere ma perché si attiva quest'area del nostro cervello che è dedicata proprio a questo in altre parole dal riconoscimento degli oggetti delle facce quest'area del cervello che si chiama area buca delle lettere è stata chiamata così letterbox area da un neuroscienziato bravissimo che si chiama Stanislas Dehen piano piano è stata riutilizzata per captare i segni delle scritture e questi segni delle scritture hanno a che vedere con delle regole auree segni delle scritture sono uguali identici nelle loro configurazioni agli oggetti intorno a noi cosa significa che alcune configurazioni alcune composizioni insieme di segni rispettano le regole delle configurazioni e delle associazioni dei segni dei segmenti degli oggetti intorno a noi è come se il nostro occhio avesse nella sua evoluzione culturale migliaia e migliaia di anni selezionato le configurazioni dei segni che erano facili per il nostro cervello e allora studi statistici hanno visto che tutte le scritture tutte tutte tranne quelle iconiche di cui torniamo a parlare ma le scritture nella loro evoluzione rispettano le stesse frequenze tutte le scritture hanno delle configurazioni molto semplici a l o a t non sto parlando delle lettere dell'alfabeto a l e t sto parlando proprio dei due segmenti messi insieme sono molto più frequenti della x o della y di nuovo configurazione del segno e non della lettera cosa significa questo che per il nostro cervello ci sono dei segni che sono più facili che richiedono meno difficoltà cognitiva meno sforzo cognitivo rispetto ad altri e quindi queste cose qui rispettano le configurazioni di tutti gli oggetti che vediamo intorno a noi dell'ambiente la l e la t sono ovunque molto più della x e della y è solo un esempio studi su come il nostro cervello vede il mondo è per questo che la scrittura non è altro che un elemento non solo culturale ma anche biologico anche dai non mi viene fisiologico eh faccio errori la frequenza è uguale alle scene la frequenza dei segni delle configurazioni dei segni è uguale alle scene allora scetticismo san tommaso vediamo se è vero tutto questo nella nostra evoluzione attraverso l'archeologia i primi segni fatti intenzionalmente dagli esseri umani sono di 75 mila anni fa vengono da una grotta del sud africa che si chiama blombos e vediamo questi segni fatti apposta sono intenzionali non sono così del dei graffiti messi a caso eh che hanno una configurazione specifica chi li ha scavati chi ha trovato questi pezzi di ocra sostiene che è la prima o la più antica dovrei dire manifestazione rappresentazione del nostro simbolismo di come noi ci relazioniamo all'idea di simbolo però se si parla di simboli mi dovete anche dire che cosa sono che simboli sono non entriamo troppo nella semiotica ma il punto è sì è vero sono intenzionali ma c'è questa intenzionalità verso l'idea di rappresentare una cosa specifica il linguaggio è fondamentale perché è referenziale quando io dico una cosa intendo quella cosa lì e non un'altra succede la stessa cosa con i segni se io faccio un segno lo faccio intenzionalmente mi voglio riferire a una specifica cosa qui non sappiamo che cosa fosse quindi l'idea di simbolismo intenzionale rispetto a questo è forse portare un po avanti un'istanza coraggiosa ma anche di nuova politica va dimostrato che sia intenzionale verissimo ma che sia un simbolo possiamo discutere fino a domani però questa è la prima rappresentazione intenzionale dell'essere umano bene in tutto il paleolitico superiore da 50 mila anni fa in poi fino a 12 mila anni fa la cosiddetta età del ghiacciola e sage gli esseri umani non solo hanno fatto e disegnato nelle grandi pareti rocce parietali della francia della spagna dell'australia dell'argentina degli animali dei grandi animali hanno disegnato anche dei segni geometrici tantissimi la la razza è una 6 cioè il segno geometrico è preponderante in maniera netta rispetto al segno iconico rispetto alle figure rispetto agli animaloni come mai e l'altra cosa pazzesca è che questi segni non solo in parte rispettano le configurazioni di cui vi dicevo prima che richiamano riflettono il mondo intorno a noi ma le troviamo dappertutto nel mondo paleolitico dappertutto e sono le stesse qui non c'è comunicazione fra gruppi diversi che comunicano di aria in aria migliaia di che decine di migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro qui ci sono gli stessi segni fatti in maniera originale di nuovo l'invenzione mamma mia quest'idea dell'invenzione è pazzesca uguali identici senza nessun suprematismo europeo ma l'europa le grotte europee in francia e spagna anche in italia hanno tutto il repertorio di questi segni geometrici astratti allora un'altra mia ossessione ma cos'è questa cosa qui cosa perché come mai qual qual è qual è la possibilità dietro a questo stato dell'arte dietro a questo fatto sono gli stessi segni allora ho invitato a una serie di seminari una studiosa che ha scritto un libro proprio su questi segni che si chiama genevieve von petzinger che è una persona deliziosa e le ho detto ma fino a che punto si può parlare di codice fino a che punto siamo di fronte a un'idea di protoscrittura e l'ho messa in crisi perché qui c'è il video ma parafraso quello che dice lei perché abbiamo poco tempo lei dice beh non è scrittura e vabbè qui sfonda una porta aperta non possiamo parlare di scrittura poi magari descriviamo perché non è scrittura perché è arte ok però lei è d'accordo con me e lei no nel dire che qui c'è un germe di questo comportamento comportamento comunicativo ovviamente non è un comportamento comunicativo che possiamo associare a quello che noi siamo abituati a chiamare scrittura ma è il germe di qualcosa di un comportamento che va in quella direzione fino a che punto però e questa è una grande domanda sulla quale ho scritto un libro intero e non vi voglio tediare più di tanto quello che vedete lì è un blog fatto da un neandertal siamo a 64 mila anni fa che poi invece riceve tutta un assetto un programma di configurazioni di rappresentazioni da parte del sapiens circa 40 mila anni fa in spagna che iniziava a mettere mani dappertutto a fare impressioni di mani sulle rocce e questa è un'altra cosa che noi troviamo ovunque nel mondo paleolitico questa è la più antica che abbiamo trovato 40 mila anni fa circa e sulla uesi un'isola di nuovo l'isola in indonesia è stata datata sono tutte impressioni in diciamo in negativo di queste mani cosa vuol dire che viene imposta imposto il palmo con le dita aperte e viene spruzzato con la stessa tecnica il pigmento intorno alle dita questa cosa la troviamo ovunque la troviamo a per schmerle questa è una foto che ho rubato io non si doveva fare ma scusatemi colpevole in questa grotta meravigliosa in francia 28 mila anni fa è una delle pochissime grotte visitabili qualcuno di voi è andato a visitare delle grotte paleolitiche è andata che meraviglia è un'esperienza è un'esperienza indescrivibile quindi non ve la descrivo andate a per schmerle davvero incredibile 28 mila anni fa mani in negativo di nuovo sulla sulla uesi in indonesia e poi più di 20 mila anni dopo quasi 20 mila anni dopo a per schmerle in francia non c'è comunicazione viene fatta la stessa cosa con la stessa tecnica a gargai in francia stesso periodo queste mani sono anche con le falangi monche c'è chi sostiene fra gli archeologi cognitivi che fosse una protorappresentazione del numero non so se funzioni quest'idea del numero ma la lasciamo per quello che è cioè l'idea che ci fosse già un concetto di di computo e di numerazione che veniva rappresentata attraverso l'imposizione di una mano senza alcune falangi argentina 13 mila anni fa in posizione della mano in negativo e nel neolitico anche nel neolitico è una pratica che continua non in diretta lineare soluzione ma chiaramente è qualcosa che ha sempre interessato l'essere umano imporre la mano poi vi chiederò perché perché io ho una risposta ma forse voi ne avete una più bella e quella mano che vedete lì che è una manina piccola non è un essere umano è un varano del deserto cioè questa cosa viene imposta anche sulla gargai in francia ve l'ho fatto vedere l'idea della mano eccetera e nel periodo del paleolitico superiore di 20 mila anni fa senza nessun tipo di continuità di diretta diffusione di di trasmissione troviamo le stesse cose in australia questa è la prima rappresentazione vedete le mani in negativo questa è la prima la più antica rappresentazione australiana che cosa questo è un canguro nella regione di kimberley circa 20 mila anni fa scusate questa indonesiana è un cosiddetto cinghiale verrucoso ma guardate lo stile è lo stesso nel contesto australiano isolatissimo dal resto del continente vengono fatte le stesse identiche cose e sembra non ci fosse nessun tipo di trasmissione quindi tutto questo fa pensare fa pensare al cervello umano alla nostra capacità rappresentativa all'idea di come selezioniamo alcuni simboli perché ci sono così tanti animali eppure perché e perché sono così grandi gli animali la rappresentazione degli animali e perché ci sono così tanti segni geometrici che rispettano tutti le stesse regole che sono le stesse regole che noi utilizziamo nella nostra selezione dei segni nella nostra evoluzione culturale perché sono segni facili da riconoscere e questa cosa riporta forse al punto fondamentale cos'è che ha l'essere umano che gli altri esseri non hanno che le altre specie non hanno e io sono sempre più convinta che galileo avesse ragione che alla base di tutto è tutto scritto in delle regole che sono fondamentalmente non matematiche come dice lui ma sono geometriche il mondo è fatto di cerchi di altre figure geometriche sono triangoli galileo aveva capito quello che i neuroscienziati hanno capito l'altro ieri il nostro occhio ha una predisposizione per queste cose qua e allora anche le immagini più complesse possono essere ridotte a questi schemi perché dal paleolitico in poi non parliamo di scrittura per carità ma dal paleolitico in poi il nostro comportamento rappresentativo non è vago segue delle regole e queste sono le regole che sono alla base della comunicazione sono alla base del linguaggio comunicativo e sono tre sono l'idea della concatenazione, l'idea della ripetizione e l'idea della ricorsività queste sono le regole aure della nostra rappresentazione pensateci non solo quando disegniamo ma anche quando parliamo noi concateniamo le figure come concateniamo le parole concateniamo e ripetiamo per fermare il concetto per renderlo più chiaro per poterlo trasmettere e non solo lo innestiamo creiamo dei nidi di concetti e di figure sempre più complesse lo vedete nello schemino, lo schemino parla da sé ma la nostra storia evolutiva va in quella direzione lì dalla riduzione del mini segmento che il nostro occhio come l'occhio del gatto capta in maniera determinante e dirimente al disegno complesso sono gli ingredienti di base della ricetta la linea, la linea che funziona in molteplicità guardate come da tre linee si crea un disegno si crea l'idea di prospettiva siamo a Chauvet, qui a Chauvet 35.000 anni fa viene creata l'idea di numero, di molteplicità, di differenziazione di prospettiva, di configurazione complessa da una linea e i cavalli di Peshmerl con queste mani imposte sono sei mani, anche questa figura rubata, scusate stesso tipo di insistenza verso la linea che ci crea il contorno che ci crea il bordo, che fa bene al nostro occhio che il nostro occhio riconosce e guardate da dove vengono queste figure la natura ci suggerisce gli ingredienti questo è il cavallo di destra che vedete lì e lo rivedete qui ditemi se a destra non vedete la parete della roccia che ci forma la testa del cavallo è come se la parete ci dicesse qui ci va un cavallo e lo devi far così è incredibile 28.000 anni fa l'uomo primitivo l'uomo primitivo sarai tu guardate quanta raffinata visione ci sia dell'idea di quello che può fare un disegno come messaggio iper specifico non c'è niente di vago qui niente di vago e Chauvet di nuovo rivoluzione di 35 anni fa e vabbè si è cinematografico è arte c'è movimento c'è prospettiva è tutto verissimo è arte primitiva tutto verissimo ma c'è di più c'è di più c'è la figura dell'animale enorme cosparsa da segni geometrici e questi segni geometrici non sono lì a caso sono lì per comunicare un messaggio e questo messaggio è preciso è specifico veniva capito dal gruppo che fruiva di queste immagini che usava queste immagini e allora no non è scrittura no non chiamiamola scrittura ma forse non possiamo chiamarla scrittura perché non sappiamo che lingua ci fosse dietro e lo dico con cognizione di causa non sapendo decifrare non potendo applicare il metodo scientifico ci fermiamo a questa impressionistica definizione di arte ma questa è un'arte specifica e non ha nulla di primitivo e questa cosa continua è una cosa che continua anche nel Neolitico quando nascono le prime città siete andate a vedere Gobekli Tepe Gobekli Tepe è il primo tempio al mondo siamo a 10.000 anni fa sistema di icone ovunque uso di queste enormi stelle che arrivavano a 6 metri di altezza avevano la forma di esseri umani ma con tutto un assetto iconografico intorno e c'è chi vuole decifrare quella è la colonna non so se va dal in basso a destra è la colonna 43 che è stata vittima di varie tentative di decifrazione ma vabbè le lasciamo perdere e andiamo avanti avrete visto di English Patient il paziente inglese orrido film ma è girato è brutto il film è brutto vero? il film è brutto però è girato nella bellissima grotta dei nuotatori a Vadisura non lontano da dove avete visto la manina del varano del deserto iterazione concatenazione iterazione tutti gli ingredienti sono là in Algeria le cosiddette mucche piangenti guardate come il contorno è dirimente nella nostra nella nostra composizione nella nostra fruizione di questo programma mucche che piangono e su queste mucche fatte 6.000 anni fa hanno costruito i miti venivano prima le mucche poi ci hanno costruito la storia intorno Lilia De Omero ritorniamo a Elon Musk come si fa a costruire una parola scritta che non chiamiamo parola siete stati alla grotta dei cervi purtroppo adesso è chiusa del Salento siamo di nuovo circa 6.000 anni fa guardate la geometria la concatenazione l'iterazione l'idea di un messaggio specifico che vuole essere trasmesso con tutta la sua specificità accuratezza e precisione c'è chi dice che ci siano figure di sciamani ma è il nostro occhio moderno che vuol vedere cose siamo sempre così affascinati dall'idea di dover interpretare cose che non possiamo interpretare di nuovo lo dico con cognizione di causa le manine questa volta non impresse ma disegnate che cosa c'è dietro a tutto questo dietro a tutto questo c'è la nostra idea che qualsiasi tipo di messaggio di codice sia letto grazie alle competenze che abbiamo noi siamo abituati all'alfabeto latino romano che è altamente astratto ma nasce dall'icone è diventato astratto nel suo uso ma nasce dall'icone nasce dall'icone del protosinaitico del 2000 avanti Cristo la A non era altro che la testa di un bove che poi viene rigirata e diventa la A come la conosciamo la B era Beth era la casa quindi il nostro occhio ci dice beh se è astratto allora forse è scrittura e c'è chi sostiene che questa di El Castillo di 30.000 anni fa grotta in Spagna sia un prodromo di scrittura proprio perché segue tutte le regole di quello che noi ci aspetteremmo dalla scrittura ma il nostro occhio che fallisce di fronte all'idea che se è una cosa astratta deve essere rappresentazione linguistica non necessariamente lo è ma potrebbe anche esserlo e allora perché accade tutto questo perché abbiamo deciso di lasciare le impronte delle nostre mani nel mondo in maniera originale inventiva creativa senza nessun tipo di trasmissione diretta perché la mano perché questa ossessione nella mano questa è una poesia bellissima secondo me di Wilcock che era un critico letterario che dice ricorda che tutto accade a caso la necessità legata all'idea di invenzione io invento perché quella cosa non c'è ne percepisco l'assenza allora la invento e che niente dura beh no ci sono cose che durano 50.000 anni e il che non ti vieta di fare un disegno sul vetro appannato che è esattamente quello che noi facciamo quando siamo piccoli impariamo piano piano a leggere e a disegnare perché lasciavano le mani le impronte delle mani perché questa è una domanda perché piove c'è chi sostiene che fossero firme è una firma è un'idea di lasciare un segno individuale singolare unico prego coesione del gruppo bella mi piace nelle rappresentazioni cognitive la mano come in un certo senso l'occhio prende tutto lo spazio noi siamo mano la mano è la nostra prima interazione la nostra prima interfaccia con il mondo intorno a noi c'è qualcosa di innatamente biologico e non culturale nell'idea di imporre la mano sull'ambiente è esattamente la cosa che fate quando siete al buio di una grotta paleolitica e dovete orientarvi lasciare la mano significa avere controllo sullo spazio e il simbolo nasce per questo avere controllo sullo spazio e la mano è il primo step è il primo passaggio per avere controllo e per mettere ordine è da lì che nasce tutto non è un caso noi magari potremmo trovare delle immagini di 60.000 anni fa e non le mani di 40.000 anni fa e allora tutto quello che vi dico non vale più ma non è un caso che le prime attestazioni le più antiche attestazioni che noi troviamo sono proprio queste sono quelle di una mano e da lì dalla mano nasce l'idea del contorno nasce l'idea della linea nasce l'idea del bordo è una fondamentale è un fondamentale sostrato di interazione con l'ambiente e allora forse c'è qualcosa di innato nel non avere il divieto di fare un disegno sul vetro appannato ma noi che siamo umano abbiamo iniziato a utilizzare proprio questo per iniziare forse a lasciare un segno a dare l'idea di gruppo a lasciare una traccia di noi che è la cosa più fondamentale più originale ma io ritengo più biologica che si possa trovare grazie 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 grazie